Il testamento di Silvio Berlusconi è stato finalmente aperto dopo una lunga attesa dalla sua scomparsa il 12 giugno scorso. Si è scoperto che nel corso degli anni sono state redatte tre versioni del testamento dal fondatore di Forza Italia. Sorprendentemente. Una di queste versioni risale al 2006, quando Berlusconi era ancora sposato con Veronica Lario, anche se il divorzio venne annunciato solo nel 2009. Inaspettatamente, Veronica Lario, l'ex moglie del Cavaliere, ha dichiarato di non essere a conoscenza di questo testamento del 2006 fino a due giorni fa, smentendo categoricamente un'ipotesi avanzata da un giornale secondo cui ci sarebbe una correlazione tra la volontà testamentaria di Berlusconi del 2006 e una lettera che Veronica Lario scrisse nel maggio del 2009 riguardante i comportamenti del suo ex marito. Veronica Lario ha specificato che non era assolutamente a conoscenza del testamento olografo registrato dal notaio a rigoro veda nell'ottobre 2006, ne ne era a conoscenza fino a due giorni fa. È interessante notare che nel testamento del 2006 Veronica Lario non veniva citata. Il che potrebbe sembrare sorprendente considerando il suo ruolo di moglie. Di norma, le spose sono incluse nelle disposizioni ereditarie secondo la legge. Veronica Lario ha inoltre aggiunto che le ragioni del divorzio non sono mai state legate a presunte volontà testamentarie, di cui ribadisce di essere venuta a conoscenza solo di recente attraverso la lettura dei giornali. Questa nuova rivelazione solleva ulteriori interrogativi sul testamento di Silvio Berlusconi e sulla sua pianificazione successoria. Si attendono ulteriori sviluppi su questo caso che coinvolge la famiglia Berlusconi e le dinamiche legate all'eredità del cavaliere. Grazie e metti un like al video ed iscriviti al canale e attiva la campanella per rimanere sempre aggiornato.